Secondo tempo del big match, Brigata, Vomero Spagnoli, Maglia Arancione, conducono 4-1 contro i ragazzi partenopei, appena dichilato un grandissimo gol, Luca Tavassi dalla lunga distanza col sinistro, tiro comunque deviato ma la coordinazione è stata ottima del difensore Arcigno degli Arancioni, De Paulis, De Nigris che comincia a si fa dare il pallone ma viene anticipato da Langella. Sto polemiche a non finire Va rispettare la distanza tranquillo, De Nigris allunga larga Buon anticipo di Tavassi, autentico mattatore di questo match Durulo scontro con De Nigris Il portiere spazza poi lontano Fase un po' cattive del match Gimiciani, cal portiere, ancora De Nigris Punta l'angella, alza la testa E' più comodo passare a Gimiciani, è proprio così Da Pignataro che spazza la cieca La palla finisce in pallo laterale Si incarica della battuta Luca Vadoerlo Iacono Lascia l'incarico all'angella Non ci dà uno invece che si fa lasciare il pallone Guarda al centro, serve Matrecano ma Combatte con Clemente Pignataro E' bravo Clem a destreggiarsi Lungo intanto il rinvio, non ci arriva De Nigris Non spicca il match Fallo laterale ai piedi di Luca Tavassi Batterà sicuramente lungo E così infatti sbaglia del tutto Il passaggio per Marco Matrecano Contro di un bel match finora Coraggio Gimiciani Lascia Clemente Pignataro l'incarico di battere il laterale E' uno sul pallone A disturbare Tanto scontro tra Matrecano e l'avversario De Nigris colpisce con un braccio L'angella e fallo di mano Punisce Trenchillo con una punizione Punizione a favore dei rosso-blu Seguiamo quest'ultima azione Pablo De Nigris Andare sia col destro e col sinistro Il destro Il destro di punta Palla le stelle Interrompiamo il nostro collegamento